Ci sono tanti motivi per cui noi di Costa viaggiamo da 70 anni. Mari cristallini che riempiono gli occhi di colori e il cuore di emozioni. Uno spettacolo così vicino da poterlo quasi toccare. Viaggiamo per rivivere meraviglia di epoche lontane e perderci tra le vie di città che raccontano storie di tradizioni ancora vive. Per vivere notti di danze senza fine e albe che fanno innamorare. Viaggiamo per condividere momenti felici e altri che tolgono il fiato. Giriamo il mondo per ritrovare le emozioni della terra che da sempre ci ha ispirato. La Liguria. La nostra terra, la vostra prossima meta.